Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere ha sconfitto lo Scorpione e ha salvato J. Jonah Jameson. Ecco, qualcosa non va. Gli agenti SWAT cominciano a sparare, ma Spider-Man scappa via dal Daily Bugle. Ora viene fermato da Daredevil. Ora inizia una discussione fra Daredevil e Spider-Man. Spider-Man sta cercando di dire a Daredevil che non è un criminale. Infatti, il nostro Spider-Man non è un criminale. Ora Daredevil inizia ad andare via. Ecco l'arrivalo elicottero e la polizia. Vi saluto e iscrivetevi al canale.